Sapevi che la sostanza che stai probabilmente bevendo ogni giorno è la sostanza psicoattiva più consumata al mondo? Sto parlando proprio della caffeina. Quante volte hai iniziato la tua giornata con un caffè per sentirti subito sveglio e attivo? Ti sei mai chiesto cosa accade realmente nel tuo corpo quando bevi quel caffè? In questo video scoprirai l'incredibile viaggio della caffeina nel tuo corpo e tutti gli effetti sorprendenti che ha sulla tua salute e sul tuo cervello. Sarà un viaggio ricco di sorprese che cambierà completamente il modo in cui guarderai alla tua tazzina quotidiana. Immagina di aver appena bevuto il tuo caffè preferito. Entro 10 minuti la caffeina entra nel tuo flusso sanguigno e comincia subito a viaggiare verso il cervello. È qui che accade la magia. La caffeina blocca una sostanza chiamata adenosina responsabile della sensazione di stanchezza. Il tuo cervello ora riceve il segnale che non sei più stanco e comincia a sentirti più sveglio, concentrato e attento. Ma non finisce qui. Dopo circa 20 minuti la caffeina inizia a stimolare il sistema nervoso centrale aumentando leggermente la frequenza cardiaca e facendo fluire più ossigeno ai muscoli. Ecco perché ti senti improvvisamente più energico e pronto a iniziare la tua giornata o la tua sessione di lavoro. Intorno ai 30 minuti dopo aver consumato caffeina potresti notare un netto miglioramento della memoria e della capacità di apprendimento. Questo succede perché la caffeina aiuta a stimolare i neuroni, facilitando così l'apprendimento di nuove informazioni e il ricordo di dettagli importanti. Potrebbe sembrare incredibile, ma quel caffè mattutino sta davvero potenziando le tue capacità cognitive. Eppure non tutto è positivo. Un'ora dopo il consumo, la caffeina raggiunge il suo massimo effetto nel corpo. Se consumata in eccesso, potresti iniziare a sentire ansia, agitazione e persino palpitazioni. Questo accade perché la caffeina stimola la produzione di adrenalina, l'ormone associato allo stress e alla reazione di lotta o fuga. Ma cosa succede nelle ore successive? La caffeina rimane nel tuo corpo per un periodo che varia dalle 4 alle 6 ore. Se assumi caffeina nel pomeriggio, questo potrebbe influenzare significativamente la qualità del tuo sonno. Infatti, anche se riesci a dormire, il sonno potrebbe essere più leggero e meno rigenerante, provocando stanchezza e irritabilità il giorno successivo. Un altro aspetto affascinante della caffeina è il suo effetto sul metabolismo. Molte persone bevono caffè per perdere peso, perché la caffeina accelera leggermente il metabolismo e aumenta la termogenesi, ovvero la capacità del corpo di bruciare calorie. Tuttavia, questo effetto è moderato e da solo non è sufficiente per dimagrire in modo significativo. Sai qual è uno degli aspetti meno conosciuti della caffeina? La sua capacità di migliorare le prestazioni sportive. La caffeina è infatti una delle sostanze più utilizzate dagli atleti perché migliora la resistenza, riduce la percezione della fatica e aumenta la capacità di concentrarsi durante gli allenamenti più intensi. Esiste però anche un lato oscuro. Un consumo eccessivo di caffeina può creare una vera e propria dipendenza. Se smetti improvvisamente di consumare caffeina, potresti sperimentare sintomi come mal di testa, irritabilità e difficoltà di concentrazione, fenomeni tipici dell'astinenza da caffeina. E per le donne in gravidanza? Studi recenti raccomandano prudenza con la caffeina, perché dosi elevate potrebbero influenzare negativamente la gravidanza e lo sviluppo del feto. Pertanto, è sempre consigliabile limitare il consumo durante questo periodo delicato. Ma c'è molto altro da sapere sulla caffeina. Per esempio, la caffeina è presente in molte altre bevande, come il tè, le bibite energetiche e alcune bevande gassate, oltre che nel cioccolato fondente persino in alcuni farmaci. Le bevande o gli alimenti che contengono caffeina presentano quantità diverse di questa sostanza, il che può variare significativamente l'effetto sul tuo organismo. Inoltre, alcune ricerche hanno scoperto che la caffeina può avere effetti benefici sulla salute a lungo termine. Studi recenti suggeriscono che bere moderatamente caffè potrebbe ridurre il rischio di sviluppare alcune malattie croniche, tra cui il diabete di tipo 2, alcune forme di cancro e persino la malattia di Parkinson. Tuttavia, è fondamentale ricordare che questi benefici si manifestano con un consumo moderato e costante. Interessante è anche l'effetto della caffeina sul nostro stato emotivo. Numerosi studi dimostrano che la caffeina può aiutare a migliorare l'umore, riducendo i sintomi di depressione e ansia in persone che la consumano regolarmente e con moderazione. Questo avviene perché la caffeina facilita la produzione di neurotrasmettitori come la dopamina, che sono collegati alla sensazione di felicità e benessere. Esistono tuttavia situazioni in cui la caffeina può diventare problematica. Alcune persone sono geneticamente più sensibili alla caffeina e possono sperimentare effetti collaterali anche con piccole quantità. Questi possono includere disturbi del sonno, tachicardia, nervosismo e problemi gastrointestinali come reflusso acido o bruciore di stomaco. La capacità del corpo di elaborare la caffeina dipende anche dall'età, dal peso corporeo e dalla funzionalità epatica. Persone anziane o con problemi al fegato potrebbero metabolizzare la caffeina molto più lentamente, sperimentando effetti prolungati e potenzialmente indesiderati. Infine, è essenziale comprendere che la moderazione è la chiave. Bere caffè o assumere caffeina può essere piacevole e vantaggioso se fatto con consapevolezza. Conoscere i limiti del tuo corpo ti permette di godere dei benefici della caffeina senza incorrere negli effetti negativi che potrebbero influire sulla qualità della tua vita. Ora sai tutto quello che succede davvero nel tuo corpo ogni volta che bevi caffè. Grazie per essere stato con noi, ci vediamo nel prossimo video per scoprire altre curiosità incredibili che renderanno la tua vita ancora più interessante.